Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa, l'emanata all'allerta gialla per temporali dalla mezzanotte alle 14 di domani, venerdì 22 giugno, sui comuni bacini piccoli e medi delle zone B, C ed E. Il transito di un fronte freddo sull'Italia determinerà infatti un'accentuazione dell'instabilità nella giornata di domani, venerdì, sabato e domenica, ancora condizioni instabili, specie al pomeriggio con possibili temporali. Il dettaglio, oggi, giovedì 21 giugno, prevalentemente soleggiato lungo le coste, qualche nube cumuliforme sui rilievi dove non si esclude la possibilità di isolati, rovesci, valori di umidità in aumento, venti deboli nel regime di brezza lungo le coste, deboli meridionali nell'interno, mare poco mosso, quasi calmo in aumento fino a localmente mosso nel pomeriggio a Ponente, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 28 e 30 gradi, nell'interno tra 28 e 31 gradi. Domani, venerdì, 22 giugno, a partire dalla notte, possibili rovesci e temporali sparsi, anche forti, più probabili sul centro levante, intervallati e aschiarite, instabilità che si protrarrà anche durante le ore pomeridiane, con temporali in sviluppo sui rilievi e impossibile sconfinamento verso le confinanti coste. Venti deboli orientali al mattino, con qualche rinforza ponente al pomeriggio, deboli variabili, mare mosso, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 19 e 21 gradi, nell'interno intorno a 13 e 14 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 26 e 28 gradi, nelle zone interne intorno a 26 e 27 gradi. Dopodomani, sabato 23 giugno, soleggiato lungo le coste, instabilità cumuliforme durante le ore pomeridiane, in sviluppo sui rilievi, con possibili rovesci e temporali in locale sconfinamento verso le coste. Venti inizialmente moderati settentrionali, localmente forti a Ponente, in regime di brezza al pomeriggio, mare mosso localmente molto mosso a Ponente, in calo ovunque a poco mosso in serata, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 18 e 21 gradi, nell'interno intorno a 13 e 14 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 27 e 29 gradi, nelle zone interne tra 26 e 29 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci!